La lettura è fondamentale per la formazione. Noi come Librerie Paoline di Palermo siamo impegnate da molti anni, non solo sul territorio siciliano ma nel mondo intero. Leggere aiuta a crescere, leggere aiuta a conoscere, leggere può maturare veramente scelte fondamentali per la vita. Noi in questo crediamo e per questo siamo aderenti al patto per la lettura.